yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi ultimo episodio del podcast ovviamente di quest'anno perché se francesco o michele provo a darmi buca li vengo e li lincio parlo ovviamente del prossimo anno e siamo qui oggi per parlare di vabbè alcune uscite soprattutto un mazzo con le loli perché michele si è imputato ieri sera molto bello mezzanotte e mezzo mi scrive mi dice oh cappello domani mazzo con le loli per forza va bene per forza per forza beh no no vabbè non ti giudico tanto abbiamo appena detto settimana scorsa che questo è un gioco pieno dei maniaci e poi dovrò dire un altro paio di cose vabbè loli maggiore waifu io meglio che non mi esprimo però per no perché se no andiamo qua tutti in galera poi come seconda cosa perché non credo ci sia tempo di fare anche altro andremo a parlare di quello che sarà secondo noi yuki o durante tutto il 2023 considerando quello che hanno già annunciato e pronostici vari considerando poi anche quello che abbiamo detto nelle vecchie puntate in merito alla nuova meccanica al video che è uscito lunedì con la tier list dei prodotti e tutto il resto detto questo io partirei parlando di una cosa voi che avete ricevuto per natale così tanto per soldi soldi va bene io pokemon scarlato è un raccoglitore nuovo sai che lo devo comprare pure io dai infatti con i soldi che sono arrivati voglio chiaramente violetto però veramente pietoso veramente pietoso hai già iniziato a giocarci sì sì quasi a metà da una di pietoso c'è ace q il pokemon più bello quindi no è bellissimo il pokemon il problema è se bug ti dico io già ne ho trovato uno che era proprio invalidante nel senso che stavo camminando mi si è è come se fosse cascato in mezzo al terreno e poi non si poteva più muovere quindi ho dovuto spendere gli accendi cari sì sì proprio e vabbè vorrei dire che è un'azienda che fattura 6 miliardi di euro ogni minuto che passa e a voi va bene va bene un gioco che lagga finché ci siamo noi che continuano a regalare i soldi loro continuano a fare giochi di merda questa è la fan base che lo protegge e che dice che il gioco va benissimo ma va bene io dico che fa schifo al cazzo però l'ho giocato dal primo all'ultimo sviluppatori indi che vogliamo dire è normale che facciano dei giochi di merda che sfigati va bene posso dire anche cosa ho ricevuto io vai mostralo sì allora a parte dei pacchetti di yuki da mio fratello ma non vorrei dire ma la felpa con la maga nera bellissima la mia fidanzata mi ha chiesto qual era la tua carta preferita soprattutto cioè voleva diciamo la foto di doddle beast la carta più incredibile del mondo l'unica cosa io sono infame e gli ho detto no no questa è la carta più incredibile del mondo dopo la maga nera e gli ho fatto gli ho mandato una foto con delle tette incredibili lei si è un po offesa però nel senso potevo mandargli foto peggiori tipo questa e se riuscivo a farmi stampare questa foto avevo vinto su tutti i fronti perché poi eccola è andata a stampare la felpa col padre quindi ha capito io sono un manieco un manieco delle ragazzine 2d ci non lo è no no infatti abbiamo detto settimana scorsa che questo è un gioco pieno di manieci quindi era scontato che lo fossimo pure noi io in un verso michele in un altro perché ha preso le ragazzine francesco vuole le ragazze vuole le ragazze con la coda senso chi so io per giudicare assolutamente nessuno appunto detto questo io passerei adesso al fulcro fondamentale ovvero il mazzo con le ragazzine prima vediamo l'uscita nuova bellissima c'è ragione prima andiamo a vedere i tappetini che sono incredibili comunque allora adesso non vorrei dire ma quest'anno l'hanno sparata grossa con i playmate per i judge perché sono uno più bello dell'altro si parte col mio preferito guarda quanto cazzo è bello quanto cazzo è bello questo che io li voglio ma fa cagare 150 euro del play ma traga come minimo io ci vi butto è punk sta roba si e poi a salire l'archetipo più bello che c'è mai stato quella che è artwork a me piace tantissimo no tanta roba non mi piace l'idea dei riquadri però il mosto centrale è veramente figo soprattutto perché rimbalzo ogni volta che la entra ma io avrei comprato tutti anche se fossero stati quei quattro immagini che ha messo dietro ognuno un playmate singolo sarebbe stato stupendo ma sarebbe stato molto più figo secondo me a voglia ma vabbè andiamo a quello serio quello che tutti i giocatori vogliono quello col caduto di albats dai francesco se tu provi a dire che non ti piace ti butto subito fuori dalla chiamata non lo comprerei neanche io a me non piace a posto tutti fuori e così si conclude questo podcast è stato un piacere poi abbiamo vabbè quello con ultimi player bellissimo comunque io non vorrei dire ma apollusa è una fregna incredibile con l'orso ancora più bella soprattutto a quel genere di persone a cui piacciono i furri ma questo è bella no no questo lo comprerei oh finalmente bravo francesco ti butta i visti i soldi se volete c'è un giaggio che che si vuole liberare sempre d'este robe quindi vi trovo qualcuno che ve li sbologna se li compri e ce li fai come regalo di natale assolutamente dai 150 in su il mio che è quello di c'è quello di ascia aperto che sta sui 150 e quello dei bia che sta tipo a 300 ma vabbè sono i play ma sono un pochino più vecchie quindi diciamo che flex si assolutamente devo farlo soprattutto perché quello dei bia e si led e poi abbiamo un altro play ma bellissimo mazzo del cazzo premetto no dai divertentissimo lei l'hanno stampata pure gold ed è vergognosa sicuro fa schifo però ammetto che il play mat è molto bellino per i giocatori di weather painting questo mi piace tanto coloratissimo un po non è gli schifi tipo il play mat dei degli iro che avevano fatto uscire con tanti di quadretti piccoli brutti è uscito ieri il video io mentre lo montavo ricordo che avessimo detto che è terribile sì 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 meno o c'è un video dove diciamo konami merda in un altro che diciamo cazzo konami fatto un lavoro incredibile bellissimo strano sì e dai ci sta ci sta comunque volevo vedere un attimo con voi anche le promo che hanno messo sulla collezione leggendaria quella nuova ovviamente wow se sono impegnati tre divinità drago nero drago bianco e il mago nero classico poi uno compro questo abbia perso la partita con la vita questo è lo comprerò al 100 per cento comunque ma guarda guarda abbiamo deciso con un amico che non è nessuno di due di comprarne tre uno si apre uno si apre e i pacchetti si tengono sigillati e uno si tiene sigillato almeno da rivendere tra due anni quando varrà tipo tre volte tanto mi sembra una buona tattica di marketing tanto la collezione leggendaria del l'ultima che è uscita non so se era per i vent'anni e attualmente sta sui 300 quindi secondo me non c'ha tanto senso il secondo quello che compri per tira fuori i pacchetti e tenei pacchetti sigillati sì ma voi mi varrebbero comunque meno che no ma io lì vorrei dopo melincornicio qua dietro bellini al posto dei green screen di merda è sicuro carino ci sta ci sta e niente no solo questo passiamo adesso al mazzo con le loli è bello almeno così ah eccolo adesso ci siamo dimenticati della carta più incredibile del mondo schifo lo schiaccia sasti guarda che roba road roller proprio è vergognoso fare un attimo una petizione sto cazzo di merda mi ha rotto un altro paio di lenzuola lo lancio dalla finestra o lo lancio dal balcone dal balcone domani il wwf sotto casa sta carta di merda uno non non mi fa da neglino e quindi già se perde perde punti in più non posso tributarlo per per evocarlo cioè se uno è tributato o bandito posso evocarlo specialmente dal cimitero cioè ok che c'ho le fatine che mi fanno foolish però inizia e rifinisce carino che sposta tutti in difesa fa perdere mille di difesa al mostro che c'ha sul terreno avversario però deve essere come materiale di un mostro exiso e di cinque ce ne sono pochi decenti no ce n'è uno quindi ora si giocherà io uno per ce l'ho messo nel mazzo così tanto per ridere però non mi fa impazzire o me danno un livello 5 che fa da neglino e ti dico vabbè anzi un livello 5 che mi fa da neglino che c'ha 3000 ad attacchi e non è once per turn poi se me search anche vabbè tanto considerando come è il meta attualmente posso sparare la grossa quanto mi pare e non basterebbe e niente solo questo volevo lamentarmi un po allora passiamo alle ragazzine gli artwork sono quello della ragazzina secondo me è stupendo quello dei mostri questo qui che c'hai adesso già aperto il defender è carino quell'altro è veramente una cosa inguardabile partiamo da lei comunque ragazzi questo è un mix tra alice nel paese delle meraviglie e anzi alle grete che vanno a mangiare la casa della strega e lei che non aveva finito da pagare l'affitto quindi si è ritrovata sbattuta fuori casa e da pagare i danni che gli avevano fatto poverina lo stato italiano è sempre così questi mostri mi piacciono tanto ma se fino a mezz'ora fa prima del podcast hai detto no che merda ho detto che merda questa sfigata che è blu e marrone però i mostri ciccioni mi piacciono molto si questa sembra una cagata dopo capolanno no raga sembrano usciti da adventure time letteralmente fatti con i dolci si è vero è vero è vero è vero è vero è un madolce strano è la versione wish dei madolce quindi io voglio montare un mazzo praticamente perché c'è una ragazzina e dei mostri che sembrano perché secondo me se lei la fanno uscire di una rarità decente tipo secret è veramente figa come carta l'artwork mi piace un bel po' pensavo dicessi rarità decente tipo vabbè è super il mazzo lo pago poco no no la voglio secret subito ma certo che voglio secret adesso no che cosa ho giocato queste due già da come fatti artwork mi sanno tantissimo di comunacce si orare secondo me ti inculano con la magia la continua come sempre quella secret e il pendolo super ultra dai no 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 però è carino il mazzo fa schifo però adesso è uscito solo 5 carte c'è sta però la meccanica è carina allora praticamente giochi senza extra adesso spiegaci la meccanica e tutte le carte partiamo dal pendolo così non ci sbagliamo il boss monster essenzialmente è carino perché quando lo attivi come pendolo ti ha di mano una delle due magie e poi è particolare perché te lo puoi evocare solamente dal extra deck scoperto quando non hai nessun'altra carta nell'extra deck e nel momento in cui viene evocata come mostro banni una carta da che l'oppo controlla o cimitero per ogni 3 carte bandite che hai quindi secondo me è immensa perché quindi secondo me è immensa perché considera che visto che lo puoi evocare quando hai finito l'extra deck già ce n'hai 15 partite ah quindi tu l'extra lo giochi ma te lo vuoi togliere si esatto anche perché adesso arriviamo agli effetti degli altri tutti quanti ci hanno come costo per poter attivare gli effetti che ti banni delle carte dall'extra quindi senzionalmente te ti banni tutto con gli altri poi cali lei fai banni 5 ma 5 se te va bene perché considera che solo con l'extra deck è una per ogni 3 quindi già hai 5 ban ban ha coperto oltretutto quindi già solo dall'extra deck hai un meno 5 all'oppo in più se tu ci giochi carte tipo che ne so le varie pot of desire che te banni 10 dal deck extravagance eccetera te diventa immensa abbiamo green magio 2.5 esatto infatti secondo me attualmente finché non esce altre carte perché tanto ce ne sono 5 verrà usato ma lo gioco in green magio ormai c'ho tutte dei green magio ma sarà un mazzo anime che probabilmente ci hanno queste 5 carte e basta è come del do del beast che più di queste non me danno poverete vabbè però il do del beast lo puoi giocare giustamente in dino e questo lo puoi giocare in green magio nel senso il problema non sussiste si si ma per me va bene carino poi i boss monster poi c'hai i due mostriciattoli che il primo passa c'è sopra lo lì del cioccolato il defender tutti e due ci hanno come effetto quelli puoi evocare special se c'hai lei nell'extra deck scoperta e uno fa che banni una carta dall'extra deck scoperta chiaramente e guadagna 500 d'attacco per ogni mostro dell'oppo quindi ti serve per bittare e per chiuderla ok quindi o tk questo incredibile quell'altro invece o chiaramente puoi evocare una volta solo per turno special così e quell'altro invece è quello che fa da neghino se non sbaglio e tipo sempre come costa ti bagni una carta dall'extra deck coperta e neghi un effetto che targetta in numeralia in numeralia praticamente protegge tutti e tre si però è un po' debole perchè protegge solo da effetti che targettano ah però aspetta protegge anche la magia continua o no o solo i mostri passaci sopra non mi ricordo se è carta o un mostro no carta si protegge anche la magia eh non è male dai già che il mazzo fa schifo almeno non limitarlo troppo infatti poi c'è lei che è veramente carina perchè ha da uno e poi se c'hai la tizia scoperta nell'extra deck l'oppo non può attivare effetti quando te evochi normale o speciale in numeralia abbastanza inutile però è carino l'effetto che del cimitero che se te c'hai la cimitero te la puoi bandire e aggiungerti una carta numeralia all'extra deck scoperta quindi essenzialmente va in combo con la fioletta perchè te attivi la ragazzina te la addi, l'attivi fai quello che devi fare, ti aggiungi qualcos'altro poi la banni dal cimitero e spacchi la ragazzina quindi in mano tu puoi evocare special i due mostroni grossi no no ma poi è anche livello 1 quindi puoi portarla anche di 1 for 1 non puoi, è quel brutto per questo che mi fa un po' schifo sto mazzo perchè dice che c'ha la limitazione che può essere must be special summon quindi deve essere per forza evocata specialmente solo quando non c'hai carte nell'extra deck ah ok quindi prima ne va tutto poi puoi andare esatto è quello un po' bruttino e poi c'è la terreno che non mi ricordo se fa però mi pare che faceva abbastanza schifo pure quella ah no invece la forte è quella che banni due carte scoperte dall'extra e ti addi due mostri bestie a livello 10 con nomi differenti quindi chiaramente i due mostri cicciattoli che vengono evocati gratis non puoi evocare dall'extra deck il turno che attivi con l'effetto se non mostri pendolo e se è carino perchè se un mostro nei murali avrebbe distrutto in battaglia dall'effetto di una carta puoi invece bandire una carta dall'extra deck per prevenirlo ah carino cioè si proteggono tra di loro è figo perchè non è si esatto è molto carino e mi sembra che non è once per turno non vuole di una stupidaggine no non mi sembra non è once per turno il secondo effetto non è once per turno quindi è molto carino ti aiuta a sopravvivere va in lock con il cioccolato bianco e la terreno fondamentalmente uno protegge l'altro raga sai quando ma perchè io qualsiasi cosa sto per dire è al limite del censurabile no meglio che non dico cosa sembra quindi adesso settimana prossima mi porti la decklist con queste online ovviamente ma no ho provato ieri a fare qualcosa a schifo così ma non gira cioè almeno ancora non riesco a farlo di girare ma perchè considera che te o parti di lei o non puoi fare letteralmente nulla vabbè ci si prova è un mazzo in continua evoluzione è sicuro chiaramente è perché ho dei giocare con gremmaggio cioè non puoi pensare di farlo girare come un tier lo fai girare come un mazzo for fan anime che è stato inserito all'interno del pack solo perchè c'erano degli slot liberi e basta cioè appena vedi che c'ha un minimo de combo si porta sul canale così la gente sta a casa ci prova si diverte e si diverte comunque potrebbe averci un minimo sarà un mazzo meme e basta però potrebbe averci secondo me un minimo di c'ha un qualcosa ecco per essere solo 5 carte secondo me se escono i supporti giusti potrebbe diventare qualcosa di carino sempre non meta però qualcosa di carino adesso non è stato annunciato ma in realtà in Foton Hypernova ci sarà la carta OP che renderà questo mazzo incredibile esclusiva TGC che lo renderà T1 superiore a tier a cash tira fusi insieme e cambierà totalmente le regole del gioco oppure no bellissimo ma proprio questo che me lo monto ti dico perchè secondo me non costerà più di troppo e è vero come Arthur anche come si chiama Warrock era faceva schifo però aveva tutte le carte secret e quello potrebbe essere un problema o forse no anzi forse è un motivo in più per giocarlo il fatto che è tutto bello realizzato dici sì gioca un mazzo di merda però è bello 60 euro per un mazzo terribile da 5 casi ho fatto di peggio tipo parlavi delle TTT oppure dell'Artemis sfondata ah ok ah entrambi Artemis sfondata ma anche che quando ho montato Tribri l'ho voluto tutto alla massima un mazzo che potevi fare con 30 euro ci ho speso più dei 100 necchi solo per averci tutto alla massima possibile voi state male comunque è che dovete fare le robe alla massima per forza sono i mazzi che mi piace tanto io sinceramente vabbè ma con calma li fai alla massima mica ci devi stare subito tipo Dragon Maid ci sarà tempo per prendere camera cucina tutto è secret esatto comunque adesso tocca fare un recap di quello che è stato l'anno e cosa ci aspettiamo dall'anno nuovo fondamentalmente fra tocca a te ti do questo onore cosa ci aspettiamo dall'anno nuovo e su quello che è stato l'anno passato un anno bello per cioè non tanto per il meta che per me giocando mazzi cioè non voglio giocare meta e quindi mi turba che ci sia un meta così opprimente un po' una merda però hanno ristampato tutto se può dire letteralmente tutto è stato quindi da quel punto di vista sono contento per Konami di Cina ha fatto una buona su 870.000 terribili sì sono convinto di ciò cioè sono davvero contento delle mosse che ha voluto fare cioè nel senso di ristampe perché non aveva senso c'erano tante carte che costavano ancora un botto e pareva che cioè tanto la Konami non ci guadagnava non ci guadagnava più perché erano prodotti instampati quindi per fortuna ha ristampato tutto per fortuna quest'anno infatti non so che prodotti usciranno cioè saranno tutti per forza peggiori di quelli di quest'anno no secondo me l'anno sarà fino a settembre eh no ma dico cosa ristampi a meno che non ristampi Brave e guarda secondo me Brave c'è ancora le robe sì sì non la roba primaria come le Entrap più famose tanto quelle ormai l'hanno ripintate tutte però la roba secondaria i Bistial potrebbero ristampare no non ci pensavo neanche perché no guarda l'anno scorso Aluber sì ma Aluber era uscito nell'espansione di agosto quindi e invece la Konami ci riserverà sorprese no no i Bistial primo di settembre non li vediamo mi spiace ragazzi mi vuole bene lascia perdere lascia perdere ma a parte prodotti ristampati che vabbè ne abbiamo già parlato tantissimo altro? io ti ho detto il meta per me è una merda per me che che voglio portare roba meme cioè è proprio un fan che fosse stato un meta che partiva tutte dalle rimosse era meglio cioè capito mi tocca giocare obbligatoriamente shifter in tutti i mazzi che non gli dà fastidio così tanto però se fosse stato un altro meta non l'avresti giocato vabbè come qualsiasi è immenso ma fa veramente è brutto tu soffri cioè ci sono tanti mazzi che soffrono shifter ma non così tanto e quindi lo giocano solo perché siamo in questo meta cioè non è come Ash che dici la gioco perché boh è forte ci può stare ed è questo che mi turba di questo meta ho visto degli sprite che mandecano tre shifter cioè capito che dici vabbè lo gioco perché so che sicuramente farà più male al mio nemico ma non è una bella cosa questa cioè non è non dire che shifter è la carta più per me è sbagliata perché te speri di vederla in primo turno per vincere perché se lo vedi vinci ma se per tant'è non giochi small world e lo vedi in qualsiasi altro momento della partita è lettera cioè proprio la definizione di brick cioè è una cosa che non ne evocherai mai in pescata morta cioè boh c'è chi dice che lo toccheranno per me è un po' eccessiva come cosa perché nel momento in cui cambia il meta cioè va via non è più un problema sì penso anch'io anche perché ti dico per me non è così OP proprio per questo fatto qui che o lo vedi al primo turno e vabbè se no è inutile quindi è già una limitazione di suo non puoi scartare se c'è qualcosa al cimitero quindi non vedo perché doverlo limitare o cioè se lo limiti non c'è senso perché praticamente la rendi morta cioè è la stessa cosa che se lo vanno quest'anno da Konami mi aspetto Max C mi aspetto quello sì e non voglio non voglio essere deluso cioè ce lo aspettiamo tutti quello sì Konami in ascolto io mi aspetto anche una bella ban quello sì cioè a gennaio slash febbraio ce la meritiamo considerando che poi a febbraio esce Kastira e ops incredibile Tierlaments riesce a ibridarsi anche con Kastira wow quindi il meta sarà ancora Tierlaments in un'altra versione ma infatti Tierlaments come in ACG deve essere abbattuto proprio senza no ma ma l'ho appena comprato cazzi tuoi lo sapevi che era una carta sbroccata come Elemental Dragon no ma il problema di Tier non è il mazzo in sé è la sua capacità di ibridasse Krim ha detto che secondo lui è la versione potenziata fuse insieme di Shadow e Lightsworm perché cioè hanno preso secondo lui le due meccaniche più forti cioè le fusioni e la capacità di millare creando un mazzo ancora più forte diciamo che non è proprio così però sì io do ragione cioè io ho perso una partita perché mi ha millato tutto il mazzo ce ne rendiamo conto è quello che vuole fare Tier sì però nel senso Tier in sé va bene Tier fuso a tutto qualsiasi cosa esca no perché a quel punto capisci che il problema non è tutto il resto ma è Tier che ha una capacità di mashup con tutto il resto che è fuori di testa e che nessun altro mazzo ci ha mai avuto ah notizie importanti per gli utenti in ascolto su Master Duel è uscito il nuovo supporto su ship so che tutti lo stavate aspettando però è uscito e adesso il mazzo è giocabile visto che non c'è Tier su Master Duel bene contento? sì contento annuncio meme è fatto allora io poi vorrei parlare di una roba che è uscita l'anno scorso che secondo me è stato un enorme fallimento da parte della Konami è Speed Duel? no Speed Duel è un po' più vecchio è questa cosina qua ovvero Cross Duel è la stronzata voi sapete cos'è? ah sì è vero? l'app sì io provo ad fare mezza partita no 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 penso che tra tutte le robe che ha fatto è la roba più inutile del mondo sì a me non mi è piaciuto per niente allora secondo me ti odio ricorda un po' l'anime della prima stagione ti ricordi l'incontro che fa contro i fratelli no a me mi ricorda il gioco di Duke Devlin quello con anche sì con i dati sì io una possibilità gliela voglio da nel senso secondo me merita un video per me no no bisogna far morire le cose cioè la Konami non vuole che noi giochiamo a prescindere roba brutta se ci piace lo giochiamo così capisce cioè ha capito che i link vanno fatto allontanare tutti dal gioco perfetto Master Rule 5 è tornato a fare il cazzo che volete perfetto ha capito ma no quello che voglio dire è che poverino dai Master 2 ci ha avuto una grande esplosione ci hanno riprovato Master 2 ci stava Cross 2 no ma l'avete provato? frate l'hai provato? ho visto i video non mi piace non è Yu-Gi-Oh beh è un altro gioco è come tutti tutti i giochini secondari di Pokémon se voglio giocare un altro gioco non gioco a Yu-Gi-Oh mi pare anche ovvio Konami su via boh io spero in quest'anno in un'altra app carina simpatica oppure un'implementazione di Master 2 basta ma io basterebbe che dividessero Master 2 di merda in TCG o CG quando c'ho il simulatore no fai un altro simulatore fai anche il simulatore in TCG ma ragazzi un simulatore ufficiale TCG che non c'è solo non è un simulatore cioè Master 2 è un gioco cioè con simulatore si però è Yu-Gi-Oh con una banna a sé si si è come i classici giochi di Yu-Gi-Oh che una volta li facevano pagare i soldi adesso non li fanno più cioè adesso è gratis quando i giochi di Yu-Gi-Oh non te li facevano mai pagare almeno i simulatori beh si i simulatori no io parlo dei giochi ufficiali giochi ufficiali degli Yu-Gi-Oh te li facevano pagare ma erano giochi per il Nintendo e no io ce l'avevo uno per la Play che era stupendo è l'ultimo che hanno fatto esatto quello immagino ho capito qual è però poi hanno visto che nessuno ci stava dietro non lo aggiornavano e vaffanculo quindi mi va bene che hanno fatto uscire Master 2 che è un gioco non è un simulatore cioè un simulatore mi dovresti dare la possibilità di provare tutte le carte cioè che provo un mazzo ogni volta invece non è possibile però va bene a me piace Master 2 assolutamente secondo me è fatto benissimo le animazioni sono incredibili per molta roba l'unica cosa è che mi urta che non posso giocare machine alla massima perché non c'ho i regulus e non c'ho le fatine mi tocca giocare ma infatti non ho capito perché non hanno ancora hanno aggiunto il nuovo supporto su ship che usciva in pote quindi con anche i i tier lamens e sprite e invece hanno aggiunto solo il nuovo supporto su ship vai passando i teriyan che uscivano da difo magnifica e marta magnifica che usciva da difo e marta sempre da pote quindi forse vogliono fare meta differenti però non per me stanno ragionando di droppare degli archetipi così sbroccati su master google dopo che hanno visto com'è in tcg adesso che vedono com'è in tcg dicono dammi un attimo va si vogliono fare tengono come alternativa chi non vuole giocare al meta si ti dico io ero arrivato a diamante con gladiatore bestia secondo me è una cosa bellissima nel senso che posso giocare un mazzo meme e c'è oddio il cazzo meme penso che se ci fosse anche qui tutti la ban di master 2 direbbe qualcosa anche in tcg però ti puoi giocare i mazzi meme che ti piacciono e comunque si avrebbe possibilità di portarteli anche abbastanza avanti si ma allora attualmente su master 2 la platino ci arrivi tranquillamente con qualsiasi roba ovviamente che sia umanamente giocabile che io quando è tempo addietro con biac c'era arrivata platino adesso sto giocando infinitrack ci sto arrivando comunque non è una cosa incredibile poi ovviamente quando vai sopra platino continui a sedire un altro po' devi mettere le mani avanti e di ok qua c'ho bisogno di montare anche altro secondo me sempre per quanto riguarda il recap dell'anno che è stato io ho visto che c'è stato un grandissimo riavvicinamento della gente al gioco e questo è stato bello non so se è stato per tutta la serie di ristampe però la gente è proprio aumentata quella che gioca io solo tra i conoscenti miei un sacco di gente se ne è avvicinata al gioco ma cavolo dai il numero mio per comprare carte subito ma certo subito però è carino secondo me è stata un'unione del appunto l'uscita di master 2 adesso i bambini giocano al cellulare non giocano più a carte ma guarda e quindi hanno visto il gioco si sono affazionati e hanno iniziato a giocare magari anche local sì ma master 2 è stata una mossa commerciale solo per spingere giustamente sul gioco di carte va bene ma adesso non vorrei dire ma io quando insegnò ai bambini a tennis cioè così chiacchierando è uscito il discorso carte che facevo video e tutto il resto tutti giocano a pokemon ma nessuno gioca collezionano si comprano le carte dei pokemon vi racconto questo perché faria di un botto a un certo punto c'è un genitore mi dice eh no io l'ho trovata ademeno e io le prendo dai cinesi a 3 euro gli ho detto guarda sono false sono false tu come fai a sapere che sono false no nel senso io le vendo so che sono false ma c'è una cartoleria no sono false perché se no non costavano 3 euro nel senso il prezzo non lo faccio io e ha detto eh vabbè ma è contento così io ho detto ma guarda che quando cresce se le ritira fuori dopo si trova roba falsa non è bellissimo eh no ma adesso lui ha detto che ha finito la collezione è contento così ok allora contento tu è vero nel senso invece di comprare due pacchetti dai cinesi gliene compri uno vero ed è contento comunque ma vabbè detto che con 50 euro di cartuccia di inchiostro può stamparsene tutte quelle che vuole perché alla fine è quella la valenza cioè quando lo capisci che sono dei genitori boomer che non ne capiscono niente cioè eh vabbè nel senso è un tempo diverso sì ma invece cioè gliene compri la metà e gliele compri vere non è che ma però sono contento che c'è un riavvicinamento al gioco perché secondo me il brutto dei master duel è che se la gente gioca online perdi tutta la parte sociale del gioco io mi ricordo che quando eravamo fioli era più divertente perché andavamo in spiaggia a fare gli scambi cioè divertivamo sì però capito allo stesso modo conoscevi gente era carino pure l'ambiente della fumetteria alla fine è un ambiente abbastanza sano cioè stai lì c'è tutta gente nerd di merda che come te che si divertono giocando a figurine cioè è bello secondo me invece se lo releghi solo al al cellulare perdi tutta la parte bella secondo me del gioco ma poi gli scambi la figura del nerd non è più svalutata come l'era una volta una volta ti picchiavano col bastone giustamente no sono d'accordo con frate è la legge della giungla oramai non è più così nel senso anche tutti guardano gli anime tutti hanno una waifu quindi se io girerò andrò a lavoro stasera con la maglia della maga nera sarà tutto a posto speriamo che crei licenze licenze esatto il 15 gennaio io sono licenziato comunque perché il contratto non me l'hanno prolungato con ad maledetti infami cioè io volevo che mi proponessero l'allungamento poi dicevo guarda ho trovato un altro lavoro volevo averlo solo per poter rifiutare invece no che l'avrò trovato è carino ma dipende quanto me pagano stiamo valutando ancora secondo me è stato un bell'anno sia per le ristampe come abbiamo detto mille volte che per un aumento delle persone al gioco poi su fumetteria bella piena l'OTS c'era un sacco di gente sì sì ma ti dico poi stanno ci siamo passati un sacco di mazzi filichi c'è stato Despia c'è stato per due settimane la roba Equiborea X un Avalon adesso c'è un mazzo T0 due settimane due settimane è rimasto lì e poi è stato abbandonato adesso abbiamo un T0 che non può essere contrastato anzi si fonde con qualsiasi roba cioè c'avevamo da penare un botto però godo io godo per il fatto che T era T0 per il semplice fatto che quando non aveva i supporti quando non aveva la gente diceva no fa schifo è un T0 e non era assolutamente un T0 adesso Konami ha detto ah sì è un T0 adesso ti faccio vedere io cos'è un mazzo monometrico no 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 ma Sprite doveva essere quello forte tra i due in Giappone Sprite superiore a Tierlaments sotto tutti i punti di vista poi sono uscite cose e la gente ha detto cazzo io ho speso tutti questi soldi per Sprite e poi è il mazzo due e non il mazzo uno qua qua tocca a vendere e compra il mazzo vero e quindi hanno fatto doppio acquisto su Pote io tipo all'epoca quando apri Pote mi lamentai perché trovai due blu e tre terreno tier direi che si fai schifo sono stato vergognoso con quell'opening sono stato terribile sotto tutti i punti di vista perché ho trovato anche due ultimate slayer praticamente il 3x di tutte le fusioni o 2x una roba del genere comunque vorrei vedere con voi un attimo i nuovi prodotti che usciranno nell'anno nuovo vabbè a parte le reprint dei set vecchi però abbiamo il set quello di maggio e vabbè Maze of Memories che secondo me sostituirà Ghost from the Past a sto punto se no avevano già annunciato vabbè Foton Hypernova che è il set di febbraio che ci farà piangere tutti di nuovo e poi questo che è il set di gennaio Sì che è il set che contiene le collector praticamente l'anno scorso sono uscite le exo sister l'anno prima ci sono usciti i brave token secondo me potrebbe darci delle cioè non dei buoni risultati però potrebbe esserci qualcosa interessante perché è sempre il primo set con le collector che ha roba decente poi il secondo lo mandano totalmente in cacciara quindi ma dice tre nuovi archetipi adesso vorrei aprirlo che cazzo cosa ci esce da qui è già stato già annunciato poca roba ah ci stanno ah i purely perché dicevo sì le bambine che ti piacciono a te e mi canco su quale devo dare fiducia a sto giro il rescue ace ma tra i te il rescue ace mi avrebbe da dire poi alla fine sono le bambine che hanno il supporto incredibile nel set di maggio o di agosto e diventa T-Zero in contrastato nel dubbio io compro le collector di tutte sì ma io mi canco me lo monto fisso anche se sarà un mazzo bene comunque stanno il set delle collector lo gestiscono in maniera differente mi sembra c'è una fuori la pack c'era pure in quelli vecchi o no mi pare che c'era pure in quelli vecchi a posto erano tutte rare no non mi ricordo sì tutte rare è una super mi sembra era i led che era solo rare che sono i led incredibile set ancora lo stampano no stanno non l'hanno fatto bene non hanno fatto la gold non l'hanno fatto no aspetta non so stanno è uscito il led quello di quello brutto dove c'era droplet dopo meno di un anno da quello di barone bene sono contento che è uscito prima perché se no ce lo ce lo beccavamo adesso a ottobre nel senso era uno slot buttato via poi gli altri set cos'è che già è stato annunciato poi 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 allora fotonai per no vabbè lo sappiamo maze of memories non so se ci siamo persi qualcosa no vediamo un attimo come è strutturato il pack una foil e sei carte rare quindi praticamente come il set delle collector barone vabbè questo abbiamo già visto hatch il sincro la dual academy io mi comprerò il guardiano del cancello con probabilmente te lo fanno raro figo 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 sui jinkase e sangha del tuo e niente per il resto è tutto un po' il resto l'abbiamo già visto dov'è che esce in manadome manadome non so come si pronuncerà quello che dicono che sarà il nuovo t1 che spam asincro basato su visa star frost dalla lord visa star frost il set di fotone per nova mi sembra che disastro il suo nuovo della konami penso qua si the v star star frost sta qua dentro io c'ho questo qui sarà bellissimo l'ho testato questo figo tanto più che altro che il v star è salito un botto stava tipo il visas quello che è uscito si ma ci credo perché dicono che questo qui diventerà un bel t1 io ci posso anche credere cioè attualmente non è assolutamente a livelli di tier però io l'ho visto giocato e se la scareclo e fa tanto fa tanto ti chiude con cioè almeno quello che ho visto io riesce a fare almeno 6 interruzioni al primo turno cazzo 6 interruzioni sono tante si 3 sono solo di di apollusa quindi qua non so quante interruzioni contano però si tira apo barone il sincro quello lì che ti cali con con il drago come cazzo si chiama azuki quel drago che ti cala un sincro quando senti una carta che era pure la price card di un ICS per un bel po' di tempo il il dwelling dragon no non ce l'ho presente comunque da noi sta carta si aggira sui 16 euro attualmente in america 24 dollari non so se conviene nel caso per chi se lo vuole montare prenderla adesso prima che escano i supporti perché nel caso se è veramente forte potrebbe salire ancora e a stecca si ma salirà salirà di sicuro arriverà a 40 secondo me più che altro perché c'ha la stampa cioè questa praticamente era la promo che si dava lo sneak peek quindi ce ne sono tante in circolazione quindi può darsi che più di un totto non salga questa è quella carta che va recuperata e tenuta lì perché salirà sicuro ma perché c'è veramente forte sto mazzo c'è uno che me la può dare ce n'ha due però me le fa 15 euro 15 euro io la prenderei 15 euro la più brutta no il 2 per eh la peggio il 2 per sta a 16 esatto dice alla peggio ci provo eh potrebbe essere un'idea poi non dall'italia sennò quanto stanno in inglese eh per capire se sta di più non dall'italia vabbè a parte le lingue terribili uguale più o meno no perché molto spesso noi siamo dei ritardatari sull'alzare i prezzi delle carte quindi non lo so adesso vedo e valuto ovviamente abbiamo dato un input alle persone su cosa comprare quindi domani lo troviamo direttamente a 25 perché tutto quanto a Italia avrà visto questo video come minimo lo vedo in 20 persone 10 di queste fanno piazza pulita comunque mi sa che abbiamo detto tutto per questo podcast perché dovremmo stare anche oggi sull'ora quindi io la chiuderei qua ma guarda fammi dare un consiglio ai tuoi follower quando vedete le pubblicità sui video comunque ragazzi come ha detto Michele se volete dare video a carte singole o prodotto sigillato vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è il mio link di Instagram e basta scrivermi lì e poi neanche il caso un accordo si trova esatto compra anche Digimon ricordatevelo detto questo vi ringrazio come sempre di aver visto il podcast vi auguro buon anno e basta poi va io direi che possiamo ritenerci soddisfatti di questa piccola serie è riuscita ad arrivare all'episodio 5 è sopravvissuta il vecchio anno è carino è carino l'ultimo episodio è andato una bomba cioè Francesco ha detto ma facciamo un episodio sì una settimana sì una settimana no adesso gli tocca venire qua tutte le settimane dopo l'ultimo ragazzi come ho detto vi ringrazio per quest'anno e spero di rivedervi l'anno prossimo aspetta un attimo una cosa no ragazzi noi ci rivediamo il 30 con la decklist di Flanderese e poi ci rivediamo l'anno prossimo ciao a tutti ragazzi Flanderese chi rilapporta? Cree? Cree era venuto poi anche senza extra abbiamo tirato fuori le robe dagli scatoloni disastro eh bello bella se la fa Chris sarà sicuro una bella profile e vabbè ciao a tutti ragazzi ciao a tutti Grazie.